Caro Vito, la pensione è un traguardo che viene festeggiato con amici e parenti dal momento che dopo tanti anni di duro e faticoso lavoro si è finalmente arrivati alla conclusione di questo percorso. In questi casi volevo scriverti un messaggio di auguri ma mi manca totalmente l'ispirazione e per aiutarmi in questo momento ho deciso di fare un video dicendoti quello che penso realmente di te. Beh, dopo tanti giorni passati, tra avanti e indietro, da canosa a trani e viceversa per il supermercato, il servizio, pausa e caffè, finalmente è arrivato il momento, è il grande giorno, al grado di tutto puoi dire addio allo stress e goderti almeno un po' di relax. Da oggi inizia un nuovo percorso nella tua vita che ti permetterà di dire addio alla sveglia, almeno questo, e di dedicarti alle tue passioni. Siamo sicuri, perché parlo a nome mio, della mia famiglia e dei miei amici, che sei e sarai sempre il migliore. Certo, mancherai a tutti, a me particolarmente, perché se devo essere sincero, mancherà soprattutto la tua presenza dietro quel bancone dove tu sei il re e tutti hanno molto da imparare da te, veramente tantissimo. Ma anche quei fantastici assaggini che tu preparavi minuziosamente, che io ho sempre gradito, ovviamente ero il tuo assaggiatore ufficiale. Sono convinto che i tuoi colleghi, visto che gli lascerai almeno il testimone a qualcuno, sapranno eguagliarti, me lo auguro. Insomma, ma per noi resti unico, davvero. Beh, caro Vito, ti auguriamo ogni bene per tutto ciò che verrà, ovviamente dopo, e buona vita. Da parte mia, Vittorio Cassinesi, con tutta la famiglia e gli amici. Ciao caro, tanti auguri.